Perché appunto per il fatto di Luca Dai c'è spesso Però ti scusi sempre per la pronuncia Sì, sì, perché sono imbarazzato perché insomma c'è sempre un cast interessante e quindi c'è sempre un po' di imbarazzo a cantare la parte loro Ma ci siamo, allora io sparisco Grazie, scusate, no Grazie 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 Grazie.